Una campagna incentrata soprattutto sui regali, regaliamoci emozioni insieme era lo slogan iniziale, poi lavorandoci sopra l'avrei fatto come la vis vi regala partite, perché forse è questo diciamo più lo scopo, perché le giornate bianco-rosse non ci saranno più, sono state conglobate nell'abbonamento e nel totale dell'abbonamento ci sarà uno sconto del 10%, quindi di più non si poteva fare. Oggi pomeriggio, già da oggi i botteghini sono a vostra disposizione per informazioni, per prezzi e anche per acquistare gli abbonamenti, però la coperta viene confermata su 300 euro, il prato 150 euro e la laterale 150 euro. Poi prezzi scontati con ridotto, i ridotto ricordiamo che possono essere rivolti e fatti dalle donne, dagli invalidi che vanno dal 50% al 99%, dagli under 15% e dagli over 65%, questi fanno parte dei ridotti. Sono al prezzo di 250 la coperta, 120 la laterale e il prato. I ridottissimi, perché anche i bambini devono avere il loro spazio, il loro posto numerato, è un'organizzazione che si è data proprio a tutto il mondo professionistico, avranno la possibilità di occupare il posto con 15 euro in tutta la stagione, comprese, ripeto, non mi stancherò di dirlo, le giornate biancorosse. Le offerte particolari sono riferite alle famiglie, alle famiglie con nuclei di tre persone. Poi abbiamo delle offerte particolari per gli amici da portare, da avvicinare allo stadio. Abbiamo un'offerta particolare anche per chi vuole acquistare la maglia, una maglia originale della Vispesor, che andando in prato può acquistare con un prezzo agevolatissimo. Quindi tutti i bambini che praticano dello sport e delle altre società possono acquistare un abbonamento per venire a vedere la Vispesor e ancora tutti i tesserati della Vispesor, che sono talmente tanti, non potremo occupare 500 posti per solamente la Vispesor. Infine, grande interesse sicuramente ci sarà quando pubblicizzeremo, promuoveremo l'iniziativa delle scuole, nelle scuole, per le scuole medie e inferiori e per le scuole medie e superiori. Questo partirà con una dovuta presentazione durante il settembre all'inizio dell'anno scolastico. Vedrete che ci saranno delle cose interessanti.